A dimostrare, se ce ne fosse bisogno, che la filosofia non ha un campo di indagine ben delimitato, che anzi essa non può essere neanche considerata una disciplina come la fisica, la biologia, eccetera, eccetera, Allora, noi prenderemo oggi in esame Carlo Marx e in particolare le prime pagine del Capitale in cui si parla sostanzialmente di economia. Marx si trova insieme a tanti altri filosofi nei manuali di storia della filosofia, ma la sua opera, a chi fosse poco pratico di filosofia, apparirebbe come un trattato di economia politica o di sociologia o di storia. Per le parti che riguardano appunto la storia dei modi di produzione attraverso i secoli. Ma questo sta a dimostrare che il pensiero, la filosofia intesa appunto come esercizio del pensiero, come indagine, che non ha limiti precisi, ma che si occupa di tutto ciò che nel pensatore, nell'uomo suscita un qualche interesse, ecco, la filosofia è appunto un qualche cosa che può essere definita più per ciò che non è, non è una scienza, non è una religione, non è una serie di ricette per vivere bene. Non è niente di tutto questo, ma ci si può trovare qualche cosa che assomiglia alla scienza, che assomiglia alla religione, che assomiglia ai precetti, no, per essere felici. Insomma, la filosofia è un po', resta un oggetto misterioso, resta qualche cosa che più si cerca di definirla e più evidentemente sfugge ad una comprensione, non dico definitiva, ma perlomeno abbastanza chiara, no, da essere, come dire, impacchettata, no, entro precisi limiti. Dunque, oggi io voglio parlarvi delle prime pagine del capitale di Marx, approfondire appunto l'analisi della merce, le prime pagine, i primi paragrafi del capitale, partono proprio dalla considerazione, dalla domanda, potremmo dire, che cos'è una merce. Perché proprio Marx? Ma così, diciamo che non c'è una ragione precisa. Mi è capitato tra le mani recentemente il capitale e sfogliandolo ho pensato che poteva essere interessante andare un po' oltre le spiegazioni manualistiche che ci danno tuttavia una buona approssimazione del pensiero di Marx ma nel momento in cui noi effettivamente andiamo a leggere gli autori sia che si tratti di Marx o di qualsiasi altro autore ecco che ci accorgiamo che necessariamente il manuale altrimenti non sarebbe un manuale necessariamente, dicevo, il manuale è, come dire, è inadeguato a farci entrare nel vivo e nella complessità del ragionamento del, in questo caso di Marx allora intanto ecco proprio fin dalle prime battute Carlo Marx ci tiene a ad avvertire il lettore che la sua indagine è un'indagine delimitata a una forma di società e precisamente alla forma quella forma di società in cui domina il modo di produzione capitalistico questa osservazione vedremo tra poco è importante e ne vedremo appunto la ragione per cui è importante e poi egli esordisce dicendo che la ricchezza tipica appunto di quella forma di società che è appunto in cui domina il modo di produzione capitalistico la ricchezza di questo tipo di società appare come una enorme raccolta di merci queste sono le parole famosissime del capitale con cui comincia il capitale quindi la ricchezza nella società capitalistica quindi nella società contemporanea Marx appare come una enorme raccolta di merci eine unge hoere waren samlung ecco in tedesco la parola unge hoere che significa mostruoso anche in tedesco questo termine non ha soltanto il significato di qualche cosa di immenso ma ha anche un significato negativo appunto il das unge hoere è il mostro l'orrore è che questa mostruosità costituita dall'accumulo delle merci nella società capitalistica fa già presentire la mostruosità che oggi è sotto i nostri occhi di una produzione sconsiderata che sta privando pian piano il pianeta delle sue risorse che sta devastando l'ambiente ecco ma a parte questa considerazione un po' così campata per aria riprendiamo il filo del discorso di Marx e proprio perché la società capitalistica appare come un'immensa raccolta di merci dobbiamo occuparci in via preliminare della merce cioè dobbiamo cercare di rispondere alla domanda che cos'è la merce ecco qui Marx nella prefazione alla prima edizione del capitale dice chiaramente fa chiaramente un parallelo tra la biologia e l'economia politica e paragona in un certo senso la merce alla cellula così come il biologo ha il compito non facile di studiare l'organismo vivente a partire dalla sua unità basilare e cioè la cellula allo stesso modo l'economista per studiare la società in cui appunto domina il modo di produzione capitalistico deve indagare in via preliminare proprio l'unità costitutiva di questo modo di produzione che è appunto la merce anzi l'economista ha un compito più difficile di quello del biologo perché il biologo ha pur sempre a disposizione il microscopio pur sempre ha a che fare con un corpo che può essere osservato con gli strumenti raffinati della scienza e l'economista invece può fare affidamento soltanto sul potere di astrazione della mente potremmo dire cioè nell'indagare la merce Marx mostra come questa indagine raggiunge il suo scopo soltanto a condizione che si astragga da tutto ciò che è in qualche modo corporeo da tutto ciò che è in qualche modo fenomenico da tutto ciò che è qualitativo ma adesso vedremo che cosa significa tutto questo dicevamo poco fa che Marx si preoccupa in apertura del capitale di delimitare il campo di indagine e questo lo fa per una ragione ben precisa il sottotitolo del capitale è critica dell'economia politica cioè il capitale intende essere anche come un precedente scritto di Marx del 59 che si intitolava appunto per la critica dell'economia politica intende essere appunto un punto di vista più avanzato rispetto all'indagine degli economisti classici in particolar modo Smith e Riccardo i quali nella loro opera nella loro ricerca non hanno saputo in un certo senso staccarsi da quel pregiudizio in base al quale le leggi economiche debbono valere per tutte le società e in tutti i tempi ecco questo per Marx è un punto di vista sbagliato perché le leggi che regolano il modo di produzione degli uomini che si uniscono in società sono diverse a seconda della forma storica a seconda del momento storico a seconda del grado di sviluppo di quella determinata civiltà o di quell'altra determinata civiltà e quindi non si può estendere all'intera società umana in generale le stesse non si possono estendere le stesse leggi ma si deve appunto cogliere la differenza che esiste tra i modi di produzione delle diverse forme storiche e sociali che appunto si susseguono nel tempo quindi per fare un esempio un conto sono le leggi che regolano i rapporti di produzione nella società antica basata sullo schiavismo un altro conto considerare appunto le leggi che regolano i rapporti di produzione nella società medievale nella società moderna e così via quindi non si può estendere alla società in generale al di fuori le circostanze di tempo e di luogo la stessa legge ma si deve appunto considerare la differenza più che gli elementi comuni che certamente per Marx ci sono degli elementi comuni che consentono di parlare di una produzione in generale di parlare appunto per esempio di un valore d'uso delle merci ma quello che il ricercatore deve fare per poter entrare nel meccanismo di funzionamento di una determinata società è di cogliere le differenze più che gli elementi comuni più che le affinità e la critica dell'economia politica consiste proprio in questo ora perché uno smith un ricardo di cui Marx ha grande stima perché questi grandi economisti hanno commesso questo errore l'errore l'errore quindi di estendere di eternizzare dice Marx le leggi che valgono soltanto per un certo tipo di società beh loro hanno commesso questo errore perché non avevano ancora davanti i conflitti che soltanto in un secondo momento esploderanno tra il proletariato e i capitalisti non avevano ancora vissuto per esempio la rivoluzione del 1830 Riccardo muore nel mi pare nel 25 nel 1825 o nel 27 se non ricordo male e quindi non avevano vissuto né la rivoluzione del 1830 né la grande fiammata rivoluzionaria del 48 non avevano visto l'evolversi l'organizzarsi delle masse operaie la nascita dei partiti socialisti e quindi queste lotte questo fervore di iniziative questa crescita del movimento operaio la presa di coscienza appunto degli operai che avevano per Marx cominciavano a comprendere la loro situazione a comprendere di essere una classe rivoluzionaria non avendo ancora visto tutto questo essi non potevano evidentemente rendersi conto che le leggi che pure andavano elaborando le leggi dell'economia potessero appunto essere non leggi eterne che valevano in qualsiasi luogo in qualsiasi tempo ma leggi in qualche modo limitate a un determinato a una determinata forma di società per fare un esempio Riccardo che ritiene che l'opposizione tra il salario quindi tra gli operai i contadini comunque sia i salariati tra il salario e il profitto sia un'opposizione insita nella stessa natura dei rapporti sociali egli non si accorge che non è così egli cioè non poteva vedere ciò che invece sembra evidente a Marx che questa opposizione invece riguarda esclusivamente la forma sociale in cui il modo di produzione capitalistico è il modo di produzione dominante noi col senno di poi potremmo anche dire che Marx si sbagliava su questo punto egli preconizzava il superamento della società capitalistica fondata sulla proprietà privata e l'avvento diciamo così di una nuova forma sociale che doveva essere definitiva doveva costituire un po' la fine della contrapposizione tra la classe dei possidenti e le sterminate folle di coloro che possedevano soltanto le proprie braccia la propria forza lavoro da vendere sul mercato ecco l'illusione di Marx era quella di aver profetizzato qualche cosa che non si realizzerà anzi oggi potremmo dire che il capitalismo sta celebrando i suoi più alti trionfi pensiamo alla globalizzazione pensiamo al fatto che questo modo di produzione capitalistico di cui Marx vedeva i primi effetti si è in realtà allargato a tutto il globo tanto è vero che oggi parliamo di globalizzazione che cos'è la merce per Marx torniamo alla domanda fondamentale che cos'è la merce la merce è intanto un valore d'uso cioè un oggetto esterno per essere merce deve intanto soddisfare i bisogni umani ma per soddisfare i bisogni umani una merce deve avere delle caratteristiche deve avere delle proprietà deve avere delle qualità visibili delle qualità che appunto siano in grado di soddisfare la varietà dei bisogni umani allora noi avremo appunto tra le merci che so io il vestito il tessuto il ferro il grano ecco tutta la infinita varietà delle merci studiate dice Marx da quella scienza che si chiama merceologia le quali sono sostanzialmente prima di tutto dei valori d'uso cioè sono dei corpi di merce che servono a soddisfare dei bisogni umani il modo in cui queste merci soddisfano i bisogni umani non interessa l'analisi di Marx interessa invece il fatto che le merci come valore d'uso costituiscono un po' il contenuto materiale del valore di scambio e qui abbiamo la definizione decisiva con cui Marx ritiene di aver in qualche modo definito correttamente della merce quindi il valore di scambio necessariamente si appoggia per così dire sul valore d'uso nel senso che il valore d'uso costituisce il contenuto materiale del valore di scambio cioè la merce come valore di scambio non esisterebbe se non esistesse il corpo della merce come valore d'uso questa è una cosa semplice che Marx dice in maniera un po' così elaborata sostanzialmente una merce è una merce intanto perché soddisfa dei bisogni ma che cos'è il valore di scambio è qualche cosa che si vede il valore di scambio no è diciamo così qualche cosa a cui è possibile arrivare soltanto attraverso un processo di astrazione cioè per giungere al valore di scambio io devo astrarre da tutti quegli aspetti qualitativi della merce che fanno in modo che questa merce sia ferro quell'altra merce sia grano quell'altra merce ancora sia tessuto eccetera eccetera una volta che io ho fatto astrazione da questi aspetti qualitativi cioè da tutti quegli aspetti che fanno di una merce un valore d'uso io arriverò a cogliere ciò che è comune di tutte le merci ciò che tutte le merci hanno in comune possiamo anche dire l'essenza profonda invisibile della merce ciò che rende possibile il fatto che una determinata merce sia equivalente a un'altra determinata merce o meglio che una certa quantità di una determinata merce sia equivalente a un'altra certa quantità di un'altra determinata merce per esempio rende possibile spiegare come sia possibile che un quintale di grano ad esempio possa essere scambiato con un quintale di ferro per dirla così alla buona che cos'è quell'elemento comune che cos'è quel quid che consente di scambiare un quintale di grano con un quintale di ferro cioè che fa sì che un quintale di grano e un quintale di ferro abbiano lo stesso valore anzi siano lo stesso valore e che quindi sia indifferente da questo punto di vista se io ho un quintale di ferro o un quintale di grano quindi che cos'è questa essenza comune che cos'è ciò che costituisce appunto il valore di scambio di una merce la risposta di Marx è molto semplice ciò che tutte le merci hanno in comune è il lavoro in quanto le merci sono prodotte dal lavoro umano esse hanno in comune proprio questo lavoro una certa quantità di lavoro umano e qui naturalmente non possiamo accontentarci di questa risposta ma dobbiamo specificare il fatto che Marx quando parla del lavoro umano non parla di questo o quel lavoro cioè non parla del lavoro individuale non parla per esempio del lavoro del sarto o del lavoro del tessitore o del lavoro del fabbro ma parla di lavoro umano indistinto ecco un'altra cosa che non si vede un altro frutto dell'astrazione del pensatore che sta cercando quel quid invisibile così come fa il fisico quando cerca di spiegare la realtà ricorrendo agli atomi gli atomi non li vediamo e allo stesso modo il lavoro umano indistinto non si vede è il frutto di un processo di astrazione che considerando diciamo l'elemento comune che appartiene a tutti i singoli lavori fa sì che si comprenda l'essenza profonda del prodotto del lavoro umano cioè della merce dunque il lavoro umano indistinto costituisce ciò che le merci hanno in comune ciò che rende possibile che una determinata merce possa essere scambiata con un'altra determinata merce ma si tratta del lavoro inteso come come è possibile misurare la quantità di lavoro contenuta in ogni merce perché qui non si tratta semplicemente di dire una merce può essere scambiata con un'altra ma si tratta di stabilire la proporzione la misura esatta per cui quel determinato quantitativo di merce equivale corrisponde esattamente a un altro determinato quantitativo di un'altra merce e allora il lavoro questo lavoro umano indistinto deve essere misurato come tempo di lavoro come il tempo che è stato necessario per produrre quel determinato quantitativo di merce ecco perché Marx dice appunto che la merce è una cristallizzazione di lavoro umano cioè di tempo di lavoro ma egli aggiunge che questo tempo di lavoro è esattamente quella quantità di lavoro quindi quella quantità di tempo che è socialmente necessaria a produrre quel determinato quantitativo di merce e qui anche qui bisogna stare attenti perché è Marx stesso che si fa questa obiezione e gli dice se il valore di scambio di una merce dipende dalla quantità di lavoro cristallizzata che si cristallizza nella merce la quantità di lavoro che è stata necessaria per produrre quella merce si potrebbe pensare che un lavoratore pigro un lavoratore poco abile che dunque impiega più tempo rispetto a un lavoratore più solerte o a un lavoratore più abile per produrre quel determinato quantitativo di merce si potrebbe pensare appunto che la merce prodotta dal lavoratore pigro abbia più valore della merce prodotta dal lavoratore solerte o più abile perché perché incarna diciamo così un tempo di lavoro maggiore quindi se il valore di una merce dipende dal tempo di lavoro che io ho impiegato per produrla il prodotto del lavoratore pigro dovrebbe valere di più ecco a questa obiezione si risponde facilmente Marx risponde dicendo che qui non si tratta del tempo di lavoratore individuale che quel lavoratore quell'individuo determinato impiegato per produrre quel quantitativo di merce ma si tratta di tempo medio socialmente necessario a produrre quella merce cosa significa noi immaginiamo che in un determinato lasso di tempo per esempio in un anno si producano 10.000 pezzi di tela benissimo allora noi possiamo fare un semplice calcolo se in un anno cioè in 365 giorni una squadra diciamo così di operai in un determinato paese tutti gli operai impiegati nella produzione dei pezzi di tela hanno prodotto questi 10.000 pezzi di tela evidentemente il lavoro socialmente necessario a produrre questi 10.000 pezzi di tela sarà di 365 giorni quindi basta fare una divisione e una proporzione per ottenere il tempo di lavoro medio che è necessario per produrre un singolo pezzo di tela e quindi il valore di scambio di quel pezzo di tela sarà né più né meno del lavoro medio socialmente necessario per produrre quel pezzo di tela questo punto è interessante perché ci spiega anche il fatto che per esempio il produttore l'artigiano che era ancora vincolato legato al sistema di produzione antiquati prendiamo un artigiano che lavora ancora con il telaio a mano in un'epoca in cui il telaio a vapore era già diffuso bene il telaio a vapore consente di produrre la stessa quantità di pezzi di tela in un tempo molto inferiore e siccome poi il tempo medio per questa stessa ragione diminuisce rispetto ad un'epoca precedente in cui tutti i pezzi di tela venivano prodotti con il telaio a mano e anche il produttore che usa ancora il telaio a mano si troverà in gravi difficoltà e alla fine fallirà perché il suo pezzo di tela il suo pezzo di tela avrà il valore medio di lavoro di tempo di lavoro che appunto è socialmente necessario per produrre in quelle determinate condizioni di sviluppo tecnologico quel determinato pezzo di tela e dunque questo lavoratore arretrato avrà impiegato magari il doppio del tempo per produrre quel pezzo di tela ma lo dovrà vendere ad un prezzo inferiore perché il valore stesso il valore di scambio di quel pezzo di tela medio è diminuito grazie allo sviluppo tecnologico dunque riassumiamo brevemente i valori di scambio nell'analisi della merce il valore di scambio costituisce appunto quel risultato della astrazione il risultato del fatto che io considero la merce non più nei suoi aspetti qualitativi e considero il lavoro non più come lavoro individuale di questo o di quell'individuo del sarto o del tessitore eccetera eccetera ma considero appunto soltanto l'aspetto quantitativo e dunque il lavoro il lavoro umano indistinto e il lavoro socialmente necessario medio il lavoro medio socialmente necessario a produrre quel determinato quantitativo di merce a questo punto l'analisi di Marx continua prendendo in esame quell'equivalente universale delle merci che è il denaro di Grazie a tutti. Grazie a tutti.